Central Funghi. Dal 1946 gli specialisti dei prodotti del sottobosco. Con una pluriennale esperienza nel settore, Central Funghi si occupa della vendita all'ingrosso e al dettaglio di funghi spontanei in tutte le loro varianti. Secchi, congelati, freschi, sott'olio. Ma non solo. Da Central Funghi troverai anche specialità gastronomiche preparate artigianalmente. Central Funghi. Freschezza, qualità e la possibilità di scegliere tra la vasta gamma di prodotti. Central Funghi ti aspetta da Tripalda e incontra da Tuffarole 25.